Visionario che si immagina di avere delle apparizioni celesti, illuminato che ha rivelazioni, imbecille a causa di orribili stravizi, imbecille che parla in continuazione, afferma di essere imperatore dei turchi, afferma di essere il papa, imbecille senza alcuna speranza di rinsavimento, afferma di essere perseguitato da persone che vogliono ucciderlo, fabbricante di progetti in continuo, testa balzana, folle che vuole presentare in stanza al Parlamento, uomo continuamente elettrizzato a cui si trasmettono le idee altrui, litigioso ostinato, uomo cattivissimo e cavilloso, uomo che passa i giorni e le notti ad importunare gli altri con le sue canzoni e le bestemmie, satirico, gran bugiardo. Sono tutte figure della stragione che appunto sono le figure destinatarie del processo di segregazione di qualsiasi forma di alterità. È importante sottolineare un aspetto, il libertino come il dissipatore e il bestemmiatore sono tutte figure che hanno un tratto comune, la totale incapacità di controllare nel caso del libertino i propri impulsi sessuali, quindi sono protagonisti di pratiche erotiche certamente eccessive e disdicevoli. Lo spendaccione ovviamente non riesce a controllare il suo impulso a dissipare i beni, analogamente il discorso riferito al bestemmiatore. Peraltro in questo periodo il discorso della Chiesa cattolica e quello delle istituzioni laiche proposte al controllo sociale si interseca davvero in maniera molto stretta e molto intima perché entrambe queste istituzioni portano avanti un discorso di totale controllo, razionale controllo dei propri impulsi. La Chiesa per esempio in questo periodo attorno al Settecento è anche fortemente impegnata nel controllo della espressione, del proprio sentimento religioso in forme sempre contenute razionali contro qualsiasi eccesso anche in questa direzione. da questo punto di vista tra i tanti casi che Michel Foucault propone vede uno che non so quanto sia stato poi ricordato nella letteratura successiva ma comunque centrale rispetto al discorso che stiamo facendo, cioè l'internamento nei primissimi anni del Settecento di un abate, un certo abate Bargedet che molto anziano perché a 70 anni viene recluso a San Lazare perché era sostanzialmente un usuraio che non aveva alcun sentimento di carità e che dunque contravveniva a uno dei motivi fondamentali, a uno degli insegnamenti fondamentali della Chiesa. Ma è importante sottolineare che il motivo del suo internamento non è la perdita della ragione ma il suo comportamento eticamente scorretto. Quindi lui non solo fa una pratica appunto che è diventata nel tempo disdicevole ma non mostra alcun pentimento rispetto alla persecuzione di un comportamento considerato errato. Quello che mi preme sottolineare è non basta, non è più, non si esercita più la penitenza nell'assistenza ai malati. Qui c'è un controllo che è tipico dello stato dell'assolutismo monarchico, c'è quindi un'esigenza di controllo capillare non più un mero diciamo una forma di pietà verso queste forme di sofferenza. C'è da parte dello stato l'intento chiaro di soccorrere queste aree del bisogno ma anche di punirle. Le procedure di internamento erano senz'altro molto diverse ma che vedevano sempre una sorta di accordo tra la famiglia, la mediazione eventuale del parroco e l'istituzione. In tutta la procedura il medico, questo è un elemento da sottolineare, quasi non interveniva, non interveniva affatto nel momento del ricovero e già questo significa un elemento abbastanza significativo. Viceversa era consultato periodicamente, seguiva in parte le evoluzioni dei soggetti durante il ricovero ospedaliero, certamente era chiamato a redigere un documento sullo stato di salute dei soggetti nel momento dell'eventuale dimissione e quindi era chiamato a produrre appunto un documento ad hoc in genere chiamata fede che comunque manifestava, testimoniava di un suo intervento. Quindi se è pur importante sottolineare l'intervento del medico in un momento certamente decisivo e importante come quello delle dimissioni però è altrettanto importante sottolineare la non presenza o la presenza non significativa del medico nel momento in cui i soggetti venivano ricoverati. Bisogna ricordare che a lungo, ma davvero a lungo, lo stato di segregazione di questi soggetti non prevedeva alcun intervento terapeutico o alcun intervento terapeutico significativo. In alcuni casi il ruolo del medico era davvero circoscritto e comunque al tempo non esisteva un sapere psichiatrico e quindi qualsiasi intervento terapeutico rientrava all'interno di un generale modello medico che era sostanzialmente quello classico. In questo senso però uso il termine classico riferendomi all'antichità classica nel senso che era la teoria umorale quella che ancora era presente e quindi lo stato di salute o di invece malattia dipendeva da una situazione di equilibrio tra i principali umori. Pertanto poi le terapie applicate erano sostanzialmente costituite da salassi, purganti, oli e uso di decotti da erbe diverse. Grazie a tutti. Grazie a tutti.